Lei ha presentato in aula un emendamento sul disegno di leggi anziani, di che cosa si tratta? Il disegno di leggi anziani era atteso da molti anni ed è un disegno di legge che va a tutelare la popolazione anziana che sta invecchiando, siamo a 14 milioni di anziani in Italia e quindi era necessario presentare un disegno di legge per gli anziani e in particolare per i non autosufficienti. In particolare però questo disegno di legge non presentava nessun riferimento agli anziani con disabilità e il mio emendamento va in questa direzione, in particolare quando si andava a costituire la cabina di regia che è costituita dal CIPA, cioè dal Comitato Interministeriale per le Politiche per gli Anziani, all'interno di questo comitato, la governanza di questo comitato non conteneva associazioni di disabilità e quindi il mio emendamento colma questo vuoto andando a portare all'interno del CIPA e quindi della governance di questo importantissimo decreto anche le associazioni di disabilità. Per attuare i progetti di questa portata servono fondi, c'è un piano di stanziamento? Allora anche questo era un emendamento che avevo portato, cioè in particolare sull'articolo 3, cioè l'invecchiamento attivo, avevo chiesto la istituzione di un fondo per l'invecchiamento attivo che però in questo caso è stato negato. Il disegno di legge anziani fa un riordino in realtà di vari tipi di fondi, ma possiamo dire che è un disegno di legge che è povero di risorse, anzi praticamente a ISO risorse, quindi non è un disegno di legge che punta in realtà a fornire le risorse. Le risorse dovranno essere trovate nella successiva legge di bilancio, quindi noi come opposizioni marcheremo stretto il campo di questo DDL e dei decreti attuativi, soprattutto nella prossima legge di bilancio dove bisognerà postare le risorse necessarie per far camminare questo DDL anziani, che altrimenti sarebbe assolutamente inutile.